Ed ecco voi, arrivo eh, sinistra, Ghibaldo, Piero Ghibaldo, che segue Bruno, fina, col fiatone, andiamo a prendere Bianco Raffaele. Allora fammi un piccolo commento, sa Bianco, rimandi senza voce. Ma come ti permetti di staccare un professionista? Uno che ha fatto la Coppa Adriana, tu che arriva dal mondo ammatoriale. Un'altra persona, un'altra persona, più umano, più ragazzo insomma l'altro, è un capitano, sceriffo eh, sceriffo di, tu volevi comandare un sceriffo? No, non ci permetti almeno, non è solo quello che non lo faccio. Ma voglio un saluto a Francesco, Francesco, sei sempre sulla bocca di tutti eh. Grande, dritto, dritto. Grande Francesco. Grande. Vabbè, come corridore. Ho visto quello che ha vinto. 300 corsi. Non è niente eh. Non vogliamo. Oh Bruno, affiancato un professionista. Certo. Che impressione ti fai? Eh? L'impressione di essere ritornato ragazzino. È un male. È perché lo spirito c'è, la testa anche, ma mancano le gambe. Eh, guarda. E ci sono gli anni che, che pesano. Con l'allenamento eh le gambe. Sì, ma. Adesso se volete andare giù secondo me. Eh, meglio che torniamo indietro, sennò. Carriamo 100 minuti. Bruno qua. Deveva fare il giretto dei 60. Dio, quattro volte. Ah, poco. Sai che piange, è un corridore, come... Vedi che non si lamenta Piero, Dio santo. Eh? Eh? Sai, ci fermiamo la fontana? Qua? Eh, c'è la bella fontana qua. La fontana di Silvano Alviero. Ah, sì? Eh già, è sua, personale questa. Ciao Bianco. Per il lavativo di Alviero, dove? Dove è il lavativo di Alviero? Sì. Ma stai facendo sconfirmato? Sì, se lo metti in rete. Così la gente, la gente ci deride. Ecco voi, Franco Peruzzo, ex mondiale, ex mondiale a cronometro squadra di Montreal. Mi raccomando, tutti i miei chiesti della salute eh. E fa pubblicità, il meccanico bianco. Raffaele. Personale, personale. 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 Vieni lo telefonato. Guarda la personale bianco Raffaele. Numero di telefono? Sì, no, me lo dai. Sì, basta fare. Non vuole, vuole essere messo su internet. Sì, vabbè, la vita a me, anche la tele. Adesso poi magari... Saluto a tutta la banda, vai. Arrivederci. Ci vediamo. Siamo qui insieme a un ex professionista con un paio di squadre di Francesco Mosere e... E' buon. No, che coso? Argentini, Moreno Argentini, Moreno Argentini. Bravo. Grandi campioni del passato, del passato recente là, non tanti anni. Eh beh. Adesso lo rimettiamo in bici Ghiba. Sì, lo rimettiamo in bici. Aspetta, riempiamo la borraccia, dai. Dammi la borraccia che te l'è un po' d'acqua. Bravo, saluto. Ciao, ciao. Ciao.